Una giornata all'insegna dell'amore per il territorio e dell'ecologia. Numerosi volontari che hanno condiviso il Green Day organizzato da Ambiente Basso Molise nei comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi, Montenero di Bisaccia e Petacciato. L'iniziativa è stata dedicata alla pulizia di alcune aree del Basso Molise come la spiaggia di Rio Vivo e delle tante discariche abusive. La responsabilità sociale di cui i promotori vogliono farsi carico ha un peso molto elevato. Insegna nel contempo spiegano alle nuove e vecchie generazioni il senso civico e l'attenzione per la salute umana e il rispetto di ogni angolo del territorio. Sicuramente è una grande giornata per il Basso Molise. Tante associazioni, tanti volontari, scuole che partecipano. I comuni li abbiamo chiamati in causa ma non possiamo solo attaccarli perché in questo caso i comuni ci hanno aiutati. Chiaramente i cittadini ci devono dare una mano perché il nostro territorio è sporco e chi sporca purtroppo siamo noi. L'iniziativa è stata condivisa dalla Protezione Civile di Campomarino, dall'Istituto Comprensivo di Petacciato, da alcuni amministratori e dall'associazione Moligav che il 26 settembre sarà presentata a Guardia Alfiera. Abbiamo bisogno di far vedere la nostra presenza sul territorio. Abbiamo bisogno e necessità che i cittadini ci seguano ma non solo come associazione, come intenti, come scopo. Questo territorio ha bisogno di essere tutelato, ha bisogno di essere rivalutato e salvaguardato. Non possiamo pensare alla promozione del territorio se prima non pensiamo ad una sua salvaguardia e ad una sua protezione.